Siamo chiusi dentro una macchina di notte in mezzo a una foresta Dobbiamo riuscire a scappare ma il tempo scorre E ragazzi come va? Io sono Fieri Niki E io sono Stef e che si giochiamo a Escape the Car E siamo finalmente tornati con gli escape Questa volta ovviamente dovremmo cercare di scappare da una macchina Non siamo in un bel posto la vedi questa foresta molto buia Io direi di andarcene prima possibile di riuscire a scappare Non mi piace per niente questa zona Però dobbiamo fare con calma Dobbiamo analizzare ogni minimo dettaglio di questa macchina Scoprire E poi scusami un attimo Ma non possiamo semplicemente aprire lo sportello e scappare? Se lo sportello è chiuso? Spacchi il vetro Anche secondo me Però facciamo finta, ok? Di essere chiusi o nella nostra macchina e quindi non ti vuoi spaccare il vetro Che avrebbe senso Non la vuoi rompere giustamente Oppure se è la macchina di qualcun altro Hanno messo i vetri blindati Ah beh si ha senso Quindi hai queste due opzioni E la testate Quali ti piace di più? Che è la nostra macchina o che ci hanno messo in una macchina blindata? Blindata? Che ci hanno rapito Facciamo finta che ci hanno rapito E quindi ci hanno rapito e ci hanno messo dentro una macchina blindata In mezzo a una foresta Esatto A guardare le stelle Ha senso Ok Sì Assolutamente Comunque Iniziamo ad entrare nel vivo di questo escape E vediamo un pochettino cosa dobbiamo fare Cosa tutto c'è Allora Aspetta un attimino Perché si muove in modo molto particolare Ok Cliccando in certi punti mi fa tornare indietro Cliccando in altri punti mi fa guardare Tipo se clicco qui Ok mi ha fatto vedere lo sportello Però prima stavamo guardando questo Ok Il quadro della macchina Il quadro della macchina Se ci pensi Una macchina che teoricamente è ferma ed è spenta Non può andare a 40 km orari È quello che ho pensato pure io Perché ci siamo fermi Non è chilometri È miglia Vabbè Non cambia nulla Sempre dovrebbe essere a zero Sempre dovrebbe essere a zero Esatto Quindi teoricamente questo 40 sarà un indizio numero E probabilmente anche quella è perché è cerchiata Vabbè Esatto Poi nel caso ci torniamo se capiamo che ci servirà Però tieni a mente 40 ed è Così Non lo dimenticherò Cioè adesso Lo so Tipo già dimenticato Però mi piaceva dire di ricordartelo Ok Allora i pedali teoricamente non dovrebbero funzionare E infatti è così Sono È tipo un posto chiuso No questo è praticamente il pannello Dove ci sono tutti i cavi dalla macchina Ah ok Sì sì capito Ma di solito è più sotto Per quello non lo capivo Sono esperta di macchine Ho notato Sì Hai fatto il meccanico in un'altra vita Sì esatto No il fatto è che mi piacciono le macchine Ok Poi sono cose che ti insegnano a scuola Non ci interessa più Questo dovrebbe aprire il cofano E ovviamente non funziona Perché siamo sempre molto fortunati Altrimenti uscivamo dal cofano Dentro qualcosa Guarda Gli oggetti ce li abbiamo qui Radio rotta La radio rotta Vabbè è tutto rotto Era importante sapere anche questo Guarda un attimino nella zona del cruscotto Sì voglio capire Sarà ovviamente chiuso E infatti Figuriamoci Voglio trovare chiavi Cacciavite Di tutto Allora qui nel sedile Non c'è nulla Il tappetino Non posso neanche controllarlo Peccato L'altro sportello Non c'è niente Chiuso Eh no Ok niente Sto facendo tutto il giro Oh 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 Finalmente Finalmente Che poi c'è Era nel sedile di dietro Noi che lo cercavamo Sotto i sedili Nelle top Bastava girarsi un attimo Bastava fare così Oh il cacciavite Ok Allora proviamo ad aprire questo Ci siamo capiti subito Mi sembra giusto Proviamo ad aprirlo Usa Tacchete Ok perfetto Ok Allora semplice I cavi della macchina Blu con blu Ah ma clicco e me lo mette Ok devo più o meno indirizzarlo E poi me lo mette da solo È un po' strano No però aspetta Dimmi Cos'è questa sequenza di colori Che abbiamo sopra Forse dovevo farli Secondo me devi fare prima il rosso Poi il blu Capito Rosso Rosso Blu Blu Bianco Bianco che era qui Verde Il verde Poi il fucsia Grigio e giallo Grigio e giallo Ok Abbiamo fatto Finito Possiamo andare No Questa è rimasta spenta Questo continua a non funzionare Aspetta aspetta Ci servirà sicuramente la chiave Per accendere la macchina Infatti vedi che non ce l'abbiamo Quindi probabilmente con la chiave Poi riusciamo ad accenderla Con i cavi collegati Ok Allora torniamo di dietro Di dietro Di dietro e cerchiamo qualcosa Qui Ok Trovate la chiave La chiave Hai capito dov'è? Eh no È perché immaginavo dal click Non si capiva bene Qua Ah beh Dove tieni L'accendisiga Esatto Esatto Guarda quel sedile Lo vedi che ha del nastro A me sembra un po' strano Non me l'ha fatto cliccare Qui dicevi vero? Sì vedi che ha un po' del nastro Sì non succede nulla Anche qui non succede nulla Uh 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 ok 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 spacca Spacca il nastro Abbiamo la toglierina Secondo me serve per quello Ah ok non ti stavo capendo Capito per il nastro Tacchete Tacchete Ta No però magari qui Eh eh sì Eh eh sì Vedi c'era Ok Ok 40 è È 40 È 40 Proviamo Ok Ma che bravi che siamo Aspetta La luce La luce sicura Non vediamo nulla Ah le batterie Non abbiamo le batterie Vabbè Dannazione Abbiamo dovuto imparare Che mancano sempre le batterie Sì E infatti dice è troppo buio Non vediamo nulla Noi lo vediamo Cioè scusa faccelo fare No Non lo vediamo Ok Anche se tu lo vedi Tu pensi di vederlo In realtà non lo vedi Torniamo indietro Sono allucinazioni Perché siamo chiusi troppo Esatto Esatto Allora Teoricamente abbiamo una chiave Magari ci apre questo Prova Sì Ok Batterie È scotch È scotch Sembrava tutto scotch Non so perché Quindi teoricamente Batterie Combina Ok E abbiamo la luce Torniamo lì E torniamo dietro Torniamo lì Allora Opla 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 Tacchete Tacchete Usa Ok Esattamente quello che vedevamo Esattamente Non cambia nulla Vediamo se possiamo utilizzare la chiave anche per qui No Ovviamente no Giustamente Però guarda questi Questi qua credo che tengano chiuso il tutto E da questa parte c'è una crepa È crepato Ok Quindi magari Con qualche utensile tipo un martello riusciamo a spacarlo A mani nude no Oh vabbè no è andata Andata Non si sa Ho usato la taglierina La taglierina esatto Non si sa Però non pensavo fosse in vetro E neanche io Abbiamo la chiave della macchina E provo se funziona qui O è per la macchina No forse è per la macchina Credo sia per la macchina No è la chiave della macchina Sì 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 c'è anche scritto Ok No c'è scritto Allora torniamo indietro Non succede nulla Ok Non la puoi inserire? No dice che Penso che secondo me la prova a inserire Ad accendere Si accorge che non succede nulla E ce lo dice Ok quindi sicuramente manca qualcosa Manca qualcosa Forse non c'è benzina Non lo so Teoricamente è questo Quello della benzina E non lo vediamo molto bene Sai che non lo so? Pensavo che fossimo già vicini a finire Ho detto cavolo stiamo andando benissimo Invece adesso non so più che cosa guardare Capito? Neanche io Neanche io Allora continuo No qui abbiamo già visto Lo so però questa zona mi sembra che non l'abbiamo Capito? Secondo me c'è qualcosa che ci sugge qui a destra Dici Però mi fa tornare sempre nella stessa zona Eh infatti infatti C'è sempre lì torniamo Proviamo a mettere un po' di scotch Un altro adesivo Quello che è In questi fili Ma bene in effetti Questi quando li aggiusti li devi anche collegare Perché non ci ho pensato? Eh perché In effetti Nei film vedi sempre che poi li collegano Esatto Ta 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 Guarda siamo a Bob la giusta tutto Secondo me in questo modo si accende la macchina Perché prima non funzionavano i fili Proprio perché erano scoperti Ovviamente Ok ce l'ho fatta tornare indietro finalmente Fammi tornare un'altra volta indietro per favore Tacchete Tacchete Usa E non succede nulla Allora secondo me sai che cos'è? Sotto il quadro non abbiamo aperto la cosa del cofano Quindi secondo me va aperto quello Ok Probabilmente per controllare il motore o qualcosa del genere Vediamo Perché apri il cofano Ok Come si può aprire? Non ha senso questa cosa Allora prova con il cacciavite di nuovo Non l'abbiamo provato il cacciavite lì in effetti Dov'è? E lì Qui Eh sì E che servirebbe? Scusa tecnicamente se tu infili il cacciavite fai così si stacca No 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 Qui siamo sicuri che lo abbiamo sistemato in un modo giusto? Eh mi sembra di sì Guarda questa cosa Se io clicco i quadratini Ce li attacca lui da solo Ok Allora Ed è strano Secondo me abbiamo bisogno di trovare proprio una combinazione di colori Perché evidentemente c'è proprio un problema con questi fili Non serve attaccarli tutti e basta Non serve attaccarli tutti Allora adesso dove accidenti ce la troviamo una combinazione di colori Io non ho mai notato di colori È tutto grigio in questa macchina È tutto grigio Qui non ci sono colori Se non il rosso di quel cerchietto Però non penso che ci serva molto Capito? Possiamo provare a attaccarli tutti tra nel rosso Ti piace? Dici Beh Ci sta dando il colore rosso Quindi è l'unico colore che abbiamo visto in tutta la macchina Proviamoci Cosa ti devo dire? No l'ha attaccato! Cosa? L'ha attaccato! Ho sbagliato Toglilo Toglilo Devi togliere lo scotch Ok? Allora smetti Però aspetta Combinali un attimo No aspetta Facciamolo dopo ti prego Ok Che se no Allora scusa un attimo Sì Leva il rosso Ok Lasciali così E vorrei andarmene Però come sempre ho problemi a tornare indietro Così non succede nulla Però vediamo Ma non succederà nulla neanche così Aspetta Fidati di me Tacchete Tacchete Mi fido ma non succederà nulla Esatto Ok Ok Evidentemente devi provare a combinare qualche oggetto Perché non ci abbiamo provato in effetti a combinarli? Aspetta che sto guardando No Colori non ce ne sono No è tutto grigio capito Non ce ne sono Adesso io provo a combinarli Ah ok Prova con altri Ti dice semplicemente che non puoi però eh Tipo Tac Questo è un famosissimo oggetto che tutti conoscono Esatto Dai no non funziona questa tua tecnica Ma dici che non c'è niente Secondo me dobbiamo provare a caso Fino a quando non va Io sto continuando a provare tutto a caso Primo o poi funziona per forza Ancora no Sto continuando a provare cose a caso Dai Adesso funzioni Te la senti? No Ci stai credendo? No per niente Come? Beh era semplice Se tu mettevi No l'hai fatto totalmente a casaccio Non c'è spiegazione Allora Allora calmi Secondo me adesso Allora si è acceso il quadro I pedali continuano a non andare Però guarda quello Quindi funziona questo Sì 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 Ah ok è stato sbloccato Infatti pensavo non avessi letto Allora Ta 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 Teoricamente così E siamo usciti Ed è finito così Dal cofano usciamo Sì Beh è normale Dal cofano puoi uscire Quello che ti dicevo fin da subito Se potevi aprire il cofano Potevi anche uscire Ma è una tristezza questo skate Perché? Non lo so Mi aspettavo qualcosa di un po' più Scenografico Di uscire un po' più In modo teatrale Cosa volevi? Gli unicorni all'uscita? Eh sì Ma poi esci Esci capito? Strisciando da un cofano Boh Dai comunque secondo me ci poteva stare Perché Abbiamo sempre giocato degli escape Da dieci livelli Che erano un po' troppo lunghi Questo forse è un po' troppo corto Questo è un po' troppo corto Una via di mezzo ci serviva No ma allora Contando che questo è un livello singolo Ovviamente non è che lo giochi prima Perché sennò sei già tutto Esatto Mi aspettavo comunque fossero livelli un po' più lunghi Capito? Non così corti Perché alla fine è anche troppo semplice Poi quella cosa dei fili Che comunque l'abbiamo dovuta fare a casaccio Non è che mi è piaciuta più di tanto Ho cercato una wall true su internet Perché non ci credevo Non potevo crederci che era a caso No era troppo strano Ce lo dicevo da due E era troppo strano E indovinate dov'era? Cos'è che non abbiamo controllato nella macchina Per tutto il tempo? Il soffitto Ovviamente 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 Già Molto furbi Questo significa che non siamo poi così esperti negli escape No dobbiamo migliorare ancora molto Un duro colpo Alle nostri doti investigative Adesso ci riesco a dirlo Sarebbe stato meglio far finta di nulla I consolini non l'avrebbero mai saputo Saputo Vabbè ma che cavolo Cioè finiamo un video Smettiamo di saper parlare Accidenti Dico io Ci ha sconvolto Ci ha sconvolto Comunque Giusto per farvelo vedere Diceva appunto Di tenere attaccati il rosso e il blu E noi provandoli uno a uno Il grigio e il verde E noi provandoli uno a uno Vabbè Però ha funzionato Quindi Alla fine bene o male Ci siamo Arrangiati Arrangiati Però Ricordiamoci Sempre controllare anche in alto Sempre Sempre Bene che ci riesci a dire Ci lasciateci un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao